Una cinquantina di animatori del Grest provenienti da San Benedetto del Tronto sono giunti a Verona ospiti del CPAG per due giorni di cultura, preghiera e divertimento rinsaldando in questo modo ulteriormente quello che è un legame che si sta consolidando dai tempi del post terremoto. È un'amicizia nata quasi in maniera fortuita perché i giovani della pastorale giovanile di Verona sono venuti a San Benedetto del Tronto nel periodo invernale durante le vacanze di Natale per un campo lavoro insieme alle popolazioni terremotate. Noi vediamo da una zona che ha visto il dramma del terremoto e i giovani di Verona sono venuti in maniera volontaria a prestare il loro servizio e quindi ci siamo conosciuti perché li abbiamo ospitati nella nostra comunità parrocchiale. Ed è un collegamento, un contatto che si sta mantenendo vivo anche in questo scorso d'estate. Sì perché poi come hanno trovato loro le porte aperte ci hanno aperto di cuore le loro porte e quindi saremo questa sera a Campofontana dove i giovani stanno vivendo un'esperienza di campo scuola per condividere una serata insieme di amicizia per rinnovare questa amicizia. Quindi anche passando dei momenti di riflessione di preghiera. Sì, questa mattina abbiamo vissuto un momento qui in città e abbiamo visitato la chiesa delle Orsoline dove c'è lo splendido mosaico di padre Marco Rupnik. Lì ci hanno anche aiutato un po' a entrare in questa simbologia artistica che parla del mistero della storia della salvezza. Quindi sicuramente è stata una bella esperienza. Ecco, legare due giorni di vacanza, di istensione con questi che sono i giovani che hanno prestato il loro servizio nel Grest della parrocchia insieme però a questo aspetto culturale, spirituale. Questa è stata l'occasione che ci ha offerto anche la pastorale giovanile di Verona. È stato bello ritrovarsi qui, poter vedere qualcosa di diverso dal nostro solito. Comunque ritrovarci qui tutti insieme per visitare questa città che molti di noi non avevano mai visto. È un'esperienza divertente per tutti, diciamo. Appunto, esperienze diverse perché comunque è diverso dal solito appunto. Nonostante il momento di svago di domani comunque interessava a noi molto venire qui a vedere appunto cose diverse, no? E niente, è questo, nonostante il caldo, appunto. C'è comunque divertimento. Mentre i giovani marchigiani sono a Verona, due gruppi di coetanei veronesi si sono legati a San Benedetto del Tronto per proseguire in questo gemellaggio e proponendo la propria disponibilità per attività di animazione. Vediamo delle attività che i giovani di Verona stanno svolgendo nelle Marche. In che cosa consiste? Un po' come si articola? È un servizio che alcuni giovani nostri, insieme a alcuni nostri incaricati, vivono un'esperienza di una settimana di servizio per i ragazzi. È il nostro GREST, è là tutti i ragazzi del terremoto, soprattutto quelli di Arquata del Tronto e di Pescara del Tronto, che sono ospiti da mesi ormai sappiamo, nelle zone di San Benedetto del Tronto. Lì, in quelli posti lì, proprio realizziamo per loro un GREST, un'attività che non si svolge solo nel GREST, l'attività che faranno i nostri ragazzi, ma anche nel trovare i anziani e tutto quanto, però sono ancora proprio lì a San Benedetto del Tronto.